Un tavolo permanente di discussione con l'obiettivo di esaminare i temi, le opportunità e le criticità che derivano dalle attività estrattive in Val d'Agri e quello avviato dal neogovernatore Lucano Marcello Pittelle e dall'assessore all'ambiente Aldo Berlinguer che hanno incontrato a Potenza i sindaci dei comuni di Vigiano, Spinoso, Sarconi, Marsico, Nuovo, Moliterno, Montemurro, Paterno, Tramutola e Villa d'Agri. Un incontro, il primo, dall'elezione del nuovo Consiglio regionale nel corso del quale Pittelle ha ribadito la necessità di mettere in campo azioni per la tutela dell'ambiente e per assicurare ricadute economiche, ribadendo che esse vanno alimentate da certezze, maturità e responsabilità. Posto che il petrolio rappresenta una reale opportunità per il territorio, Pittelle ha anche ravvisato la necessità di stabilire una comunicazione sulle estrazioni che deve essere più chiara e trasparente possibile. Affrontati anche altri temi cari e sindaci del cratere petrolifero. Portare avanti per esempio l'accordo sul gas, al quale manca solo la firma della regione, per i dieci comuni della Val d'Agri. La regione dovrebbe capire che per quei dieci comuni ci sono grandi problemi, poiché strategicamente il petrolio è una cosa importante per l'intera regione Basilicata, lo dovrà essere anche per i dieci comuni che vivono purtroppo delle situazioni difficili. Al termine dell'incontro, soddisfazione è stata espressa dagli amministratori. una nuova riunione è stata già fissata per la prossima settimana.